Avete mai fatto la zucca grigliata? Prepariamola insieme! Iniziate tagliando e sbucciando la zucca. E la tagliate di uno spessore di circa 3 mm. Quando la piastra sarà ben calda, grigliate la zucca. Circa 3 minuti, girandola spesso senza farla bruciare. Una volta grigliata, la mettete su un vassoio. Preparate un'emulsione con olio. Uno spicchio di aio schiacciato. Il sale. Pepe. Aghi di rosmarino. E timo. Alla fine qualche goccia di aceto balsamico. E condite la zucca con l'emulsione. Oliva. E... 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 Grazie a tutti.